Ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovissimo video, siamo con un ospite speciale in questa mappa fantastica McDonald vs KFC Io ragazzi sono Tim McDonald e lui è Tim KFC ragazzi Quindi automaticamente andremo a fare questa sfida tra fast food Prima di startare questo video vi raccomando di usare il codice creatore The Volcanistra nella Team Shop Ma non solo ragazzi ti lascerò un pollicione a questo video e di iscrivervi attivando la campanellina Ragazzi fatemi sapere voi che team siete KFC oppure McDonald Sono curioso anche da parte vostra su tutti i commenti Prontissimo? Sì sono carichissimo E sei sicuro di battermi? Sì 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 Dici che KFC è meglio di McDonald? Sì 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 Ah ragazzi già ci lancia un'accusa per noi che siamo Team McDonald Ok ragazzi qua c'è il power up ma noi non andremo a prenderlo Non prenderlo fra facciamolo uno più uno semplice normale da 5 round Pronto? Edita lui Ragazzi noi siamo Team McDonald e lui è Team KFC Speriamo di batterlo me lo auguro anch'io Sì è molto molto bravo Vai E il primo round chi lo vince? Il primo round lo vince ragazzi ovviamente Team McDonald Uno a zero fra facciamo che si arriva a 5 round così è meglio Non ci stressiamo La prima la vinco io Ah è fortissimo Claudio Eeeh vingiamo anche il secondo round fra Team McDonald vince anche il secondo round Ok Adesso posso farti finire di farti fare queste belle vittorie Ah attenzione C'è pure i minasciati Qua qua si fa a serio E vai Cavolo 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 sono one sono one sono one sono one Due a uno Ok 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 Eeeh raga le staffa batte da che si Vabbè aspetta siamo ancora in vantaggio ragazzi e non demordiamo Schillati Schillati Vai 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 Ah bella hit qua Bella hit Bella hit Bella hit E ci ribatte ragazzi Che si 2 a 2 fra Adesso non gliela te l'ho vinta Adesso andrò a batterlo ragazzi Tra iardiamo un pochettino Perché mi sono stufato sinceramente di perdere contro uno A cui piace che si ragazzi Io sono Team McDonald quindi Team McDonald deve vincere Per forza no 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 adesso no adesso andrò a giocare Serio Mi impegno Preparati fra 200 In testa Ragazzi abbiamo preso il power up Lui non se ne accorto E non se ne accorgerà Comunque fra lì sopra c'erano i colori Ho scelto il colore viola Sto usando nessun power up Ti avviso da ora Va bene? Ok ok Io sono mutato E lui non se ne accorto Io c'ho il power up Adesso andremo a vincere contro KFC Ah ma è finito per poco ragazzi Il power up è finito per poco Caspita volevo fargli un troll Ma è venuto a finire male Quindi ragazzi andiamo a giocare normale KFC che mi tira Scusami Non volevo per niente Farti arrabbiare KFC è il meglio di tutti Cioè comunque Sì che dici fra McDonald's è il meglio di tutti fra Frati stai commutendo Qua stiamo a fare proprio La guerra tra fast food Non mi devo mettere a confronto fra Siamo a 3 a 2 Per noi Non ho portato il conto Però dovremmo essere 3 a 2 Se non erro Attenzione C'è andato Sta qui sotto Uh attenzione Mi ha tirato una bella hit ragazzi Qua mi ha fatto male KFC è il meglio di tutti Ragazzi siamo a 2 a 2 3 a 3 3 a 3 L'altra non l'abbiamo contata Quindi siamo 3 a 3 ragazzi Che vince sti ultimi due round E vince ragazzi Attenzione In build mi batte KFC eh Un round Lo dobbiamo vincere È caduto 4 a 3 ragazzi Quasi mette male Allora lui manca un round E mi batte Allora stavolta è dito io Ragazzi Dobbiamo recuperarlo Lì sta a 4 Ne siamo a 3 Nella piramide Nella piramide Ah che bella hit Come andato Quasi è andato Ragazzi si fa in tenso Si fa in tenso E siamo A 4 a 4 bro Ok ragazzi Chi vince quest'ultimo round Si porta la vittoria a casa Chi vingerà secondo voi KFC o McDonald Si resettano da solo Le build Perfetto Aspetta aspetta Dato che si resettano da solo Le build Però facciamo Io mi metto da sto lato E tu ti metti da sto lato Io dal lato giallo E tu dal lato rosso Secondo voi ragazzi Chi vingerà questo round Però perché mi hai rotto la scala Tanto adesso vinco io quindi Attenzione ragazzi Già sa di vincere Vuole evitare lei quindi 3 2 1 via No 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 Già che cadiamo così ragazzi È sbagliato È sbagliato Mannai a me Cerchiamo di salire anche di le tech Preso Preso Non so con quale modo È caduto Il momento ragazzi di andare giù Me vuole dare Raga un'altra possibilità Purtroppo Ha vinto ragazzi KFC Ma ci darà una possibilità Me la vuole dare Ma con 50 di vita No no Facciamo con 52 di vita Dobbiamo portarcela a casa ragazzi Vi raccomando Si sono resettate le build Sento buildare Ma non vedo Un'anima viva Del signor KFC Sarà giù Ho cercato Oh E ce la portiamo a casa Con 52 Quindi ragazzi Abbiamo Pareggiato 5 a 5 KFC ci ha anche dato Un bel drink E abbiamo Chiarito Quindi ragazzi Tra McDonald e KFC Sono entrambi Ottimi fast food Ovviamente KFC è meglio No bra Io sto cercando Ovviamente C'è nel senso Di farti capire Che entrambi Facciamo dei buonissimi Menu Possiamo dire Quindi ragazzi Per me Il video può concludersi Con un bel pareggio Abbiamo pareggiato Perché lui ci ha dato La possibilità E io ragazzi L'ho battuto Con 52 di vita È del momento Di fargli anche Questo balletto Vai a dormire Quindi vi invito A lasciare like Sotto questo video Ma non solo Di iscrivervi Con la campanellina Di supportarmi Nel negozio oggetti E il video Riusci qua Sì è meglio di tutti Ma è meglio mecca Sotto questo video